Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Allora ovviamente per giocare online a forza Motorsport 5 ci vuole il Super Cura Ovviamente le batterie bisogna, diciamo che bisogna attivare le batterie Quindi accendiamo subito le batterie del Cura Eccoci qui con la maglietta versione Superman con batteria versione Iron Man E Super Iron Man, Super Iron Curre anzi Quindi ragazzi oggi facciamo una bella partita in multiplayer Non volevo farmi sentire dagli altri giocatori Quindi ragazzi ho disattivato esattamente l'audio in questo modo Con questo caso di pad della Xbox One Cliccate questo tastino e quando vi appare questa barretta arancione Vuol dire che l'audio, cioè che gli avversari non sentono più la vostra voce Quindi andiamo su multiplayer Ragazzi io direi di farla subito su un qualcosa di potente Come può essere una bella classe, non lo so, seleziona, gara per classe E selezioniamo ragazzi una bella OP o C, OX Sono un po' indeciso ragazzi Però io direi di farci una bella garetta in classe X Perché per divertirci, per vedere un pochettino Che gente troviamo con le Formula 1, con le macchine di Formula 1 Anche se ovviamente grande scelta non c'è Aspettate un attimo che ovviamente ci vuole un po' di tempo Per ricerchiare, per ricerchiare, per ricercare una partita con un server delicato Ragazzi io direttamente non vi tolgo questa parte Partiamo direttamente con la gara Eccoci ragazzi siamo a Praga Questa è una garetta, vediamo un pochettino che cosa ci devo mettere Ok ci spaccheranno il culo Questo ha molte curve, ci vuole super curve qui Per vincere questa partita Ma penso che non la vincerò visto che sono un po' ruggito e non ci gioco da un bel po' Forse è il Motorsport 5 Principalmente perché preferisco offrirvi il gameplay Cristo, Cristo, non gira Ma che cazzo Sì io ragazzi, io ragazzi non so chi sto seguendo Io non so veramente chi sto seguendo Però vedo gente che c'è la Ferrari Dai Ok ci siamo Proviamo a ripartire Cioè veramente tosse da guidare queste macchine È una cosa assurda In più sono 8 giri ragazzi Quindi Ma come cazzo Ma perché la mia non gira? Non è una macchina a Formula 1 Fa schifo E la mia età non mi serve a niente Ma porca Guardate non gira Non gira No ragazzi ho preso la mano totalmente qui Non riesco a pregiocare Siccome almeno di arrivare ultimi Non fare figure di merda ragazzi Non voglio fare figure di merda Dai Se invece farò figure di merda perché arriverò ultimo oggi Ci sono ultimi Non si riusciamo a fare dai Super curre Dobbiamo andare Iron super cure O curre super iron No che brutta Cosa bruttissima sta cosa Perché c'è gente ferma qui? Ok perfetto Gente ferma lì Ok non sono almeno ultimo Ok Perché sta laggando Non so che cosa sia successo Ma vedo gente ferma Ma sicuramente io piovo davanti Magari me la ritrovo davanti Tra un po' come su Forza Motorsport Sì su Forza Motorsport Su Forza Horizon Non sa cosa Che c'è gente che scompare E poi la ritrovate davanti chilometri Quindi ragazzi Vediamo se riusciamo a recuperare Le posizioni Siamo settimi su nove Almeno non siamo ultimi Vedo gente ferma E questa è la cosa che non capisco Bisogna solo riprenderci la mano Visto che Tutte queste codate Di Call of Duty Ghost Tutte queste Battlefield Atte Battlefield di Atte Mi hanno rovinato un pochettino La mano sulle Sui giochi di corsa Di macchine Ovviamente C'è un'altra macchina bloccata Guardate un po' Si blocca una macchina a giro E invece no Era la macchina di prima Quindi ragazzi C'è Motorsport Che sta parlando Quando dovrebbe stare zitto Che lui sicuramente è primo Invece non è primo Neanche quello Anzi non lo so Non lo so perché non mi dice niente Grazie Grazie Dai dai curva Cazzo si Grande Dai frena Ma poi ragazzi Visto che me l'avete chiesto in molti Riprenderò La modalità zombie Non Assillate Non assillatemi Perché Ragazzi Io le faccio le cose Non preoccupatevi Io le cose che mi chiedete Le faccio sempre Devo solo trovare il tempo Guardatemi pochettino di tempo Perché non è semplice Trovare il tempo Per fare tutto Ovviamente Ecco Sono sesto Sesto su sette Ovviamente Uscirà anche questo qua Che è fermo E Oltre le zombatte Farò qualche altra puntata Non lo so Chiedetemi pure Cosa volete vedere Magari Eh GTA Ad esempio ragazzi La ronda La ronda Devo rifare Che non lo faccio Da un po' di tempo E magari la farò La ronda With Rhino Cioè con il carro armato E E si riesco a convolgere Un po' di gente Un po' di miei amici Con tutti con il carro armato Ci facciamo una ronda Tipo in otto Metà squadra In carro armato Ovviamente Non sono ultimo E invece sono ultimo Sono sesto Perfetto Quelli mi stanno doppiando Pensate quanto sono veloci E faccio cagare Intertempo più in un secondo Grazie Grazie al caso Loro giocano solo a forza Io gioco anche a Call of Duty Gioca a Battlefield Gioca a Dead Rising Gioca a Rise Porca puttana Anche un po' di varietà Minchia Ma quanto cazzo siete veloci Porca puttana Cioè manco Gua 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 Non mi ha curiosità Ma tu c'è la Ferrari Vero? Cristo Non sono riuscito a bloccarlo Porca puttana No quella è la Ferrari ragazzi È impossibile Alla Ferrari Ah quella di Michael Schumacher O di Alonso Perché è troppo veloce Guardate La curva L'avete visto come la fa? Ma avete visto come l'ha fatta? Cazzo Cioè Ma che fosse Vettel Vettel Come cazzo si chiama? Ma vi giuro L'ha fatta velocissima Io non ce la farei mai Ma deve essere Buggato il tipo Non so Versione bug di GTA 5 Che è 2 miliardi O gente immortale Qui invece Che deve essere gente immortale Gente che va ultra veloce Che fa le curve a 300 E la fa perfetta Cioè Mamma mia Comunque ragazzi Mi sa che hanno tolto Quel bug Su GTA 5 Del 2 miliardi E infatti Penso che Anche tu? Anche tu? E infatti penso che Adesso non ci siano più Le dettaglie da 2 miliardi Quindi Ragazzi Vi toccherà Se volete una mano Ve la posso dare Per darvi un po' di soldi Dovete trovare Dobbiamo trovare delle Quando ad esempio Se ci troviamo in sessione insieme Ragazzi Posso trovare delle macchine Magari costose Le ve le preparo E vi fate tipo Almeno 80-90 mila Cristo guardate la curva Come la fa la mia Ma fa merda Vabbè Comunque sia Vi stavo dicendo Che nel caso Cercherò delle macchine Cioè cercheremo insieme Delle macchine Ve le trasso al massimo Ve le preparo al massimo In modo Così po' In modo Così po' In modo Così po' Vabbè Come l'ho detto Ragazzi Bello Serissimo Grande Perfetto Perfetto Ma Cristo Porca troia Non va bene così Comunque sia Troveremo delle macchine insieme E le trasseremo Per poter Per poter Poi voi Venderle E farvi un pochettino Di soldi Ovviamente Sapete che Si vendono le macchine Una all'ora Mi se non ricordo male Allora Ne potete vendere una Quindi cercherò di vendere Cercherò di prepararvi le macchine Tipo a 90 mila dollari Così vi fate un pochettino di soldini Magari venite abitare nel mio suo palazzo Che ovviamente Sapete Da quando ho avuto i soldi Adesso ho 13 miliardi 13-14 miliardi Se non ricordo bene Comunque sia da quando ho molti soldi Oltre a comprarmi il carro armato Il bazar d'assalto Eccetera Mi sono comprato l'appartamento Più costoso di Los Santos Quello da 415 mila Roba del genere Ovviamente la gara si conclude Fra 19 secondi Io neanche sono arrivato alla fine Perché loro hanno le macchine Ultratrassate E io non c'ho un cazzo Bello Grande 9 Sì Sì Ma ne manca uno Mi hanno anche doppiato Per la cazzo di Ferrari Che è ultra veloce Non so neanche da dove cazzo Ne sia sbuccata Comunque grande Curre Grandissimo La maglietta porta fortuna Ragazzi La maglietta porta fortuna Ma da quale parte Che scarso Che sono ragazzi Che scarso Però sfido tutti loro A giocare contro di me In Call of Duty Ghost Perché gli faccio Un culo così Clicchiamo Continua Niente ragazzi Spero che quindi Il video vi sia piaciuto Ovviamente Avete visto Il curre perdere Su Forza Motorsport 5 Sono un po' schiarsino Non ci giocavo Da un po' di tempo Ragazzi Quindi datemi Cioè Magari La prossima volta Cercherò di Che dire Di migliorare Su tutto Cercherò di Fare più gare Cercherò di giocarmela Meglio online Multiplayer Magari Io sto giocando Seleziona Per Sto giocando Gare per classe Quindi Se io vado Su classe X Non so perché Loro ce l'hanno 999 Ma sono più veloci Di me E tengono di più In curva Ma magari Le hanno preparate Magari c'è qualche Preparazione Non lo so Ragazzi Quindi Cercherò di Migliorare anche Su questo Così potrò Battere Anche queste persone Di classe X Di classe P Di classe R Di quando Riuscirò a arrivare A questi livelli Anche online Perché c'è gente Veramente forte Che ci gioca già Dall'uscita Dell'Xbox One Quindi da novembre Io ovviamente Ci gioco Da novembre Però tipo Tre volte Magari mi è capitato Quattro volte Anzi no Sette volte Di giocare Con forza Motorsport 5 Perché piuttosto Preferivo Battlefield 4 O Call of Duty Ghost Quindi ragazzi Da cura notte è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Se ovviamente Avete appena pensato il video E noi ci rivediamo Alla prossima Quindi Bella raga Alla prossima Alla prossima